Siamo ancora qui in questa serata per l'inaugurazione di Opera Credit, siamo qui con Marco Varotto, direttore generale di Fiverr, che dal 2021 fa parte del gruppo ViviBanca. Grazie per essere qui con noi. Marco, intanto iniziamo con dire come nasce questo rapporto tra voi e Opera Credit. Certo, ti ringrazio per la domanda, innanzitutto volevo ringraziare comunque Maru Scaccia e Gabriele Donnici per questa stupenda organizzazione, questa terrazza fantastica che ha aperto questo evento che sicuramente porterà grandi risultati. Noi ci conosciamo da diversi anni e diciamo che comunque ha avuto nel tempo un'evoluzione e noi siamo veramente felici che abbia preso questo taglio di imprenditoriale, insomma, quindi prendono in mano, come dire, il loro destino e noi facciamo il più grande in bocca al lupo che possano realizzare tutto quello che si aspettano e quindi, che dire, da questo punto di vista noi siamo al fianco di Opera Credit per tutto quello, insomma... L'apporto tra gente e mandante importante, insomma, no? Esatto, certo, perché comunque noi, insomma, da sempre abbiamo un occhio particolare per la rete agenziale, ecco, anche una caratteristica normativa e quindi da questo punto di vista sappiamo anche l'importanza, insomma, di quando ci scelgono, ecco, quindi siamo veramente felici che abbiano promosso la convenzione con i Fiver, gruppo Vivi Banca e veramente faremo grandi cose. Conoscendo i due fondatori da tanto tempo e, insomma, avendo contezza di quale sarà il piano di sviluppo, cosa prevedi per questa nuova agenzia nel breve termine, insomma? Sì, sicuramente noi mettiamo a disposizione il nostro know-how, sia di Fiver, sia, diciamo, della capogruppo, perché comunque abbiamo un gestionale che permette, insomma, un caricamento del front-end molto avanzato e con delle caratteristiche, diciamo, uniche, quindi, che ne so, abbiamo il censimento degli ATC mediato, abbiamo l'OTP, la firma grafometrica, il rating assicurativo, quindi, quando l'agente, insomma, deve fare un preventivo veloce, insomma, tutto sotto mano in velocità e nonché abbiamo anche un applicativo dedicato, quindi, da scaricare sul telefono, dove io dico che l'agente ha l'ufficio in tasca, quindi può seguire le campagne lead, la pratica che punto è, e quindi, a questo punto di vista, la cessione del quinto è il nostro core business. Poi, comunque, in futuro, ci potranno essere altri prodotti, già da ora, comunque, la nostra capogruppo ha il prodotto di presto personale, il prodotto diretto, quindi gestito direttamente dalla capogruppo e lì stiamo puntando molto anche, quindi, penso che con questi due prodotti si copra un'altra 360 gradi, insomma, la richiesta della clientela, diciamo, al consumo. Certo. Ecco, questo sì. Poi, diciamo che nel prossimo futuro ci potrebbero essere anche altre novità per un discorso anche societario, quindi... Quindi abbiamo qualcosa in pentola che aspettiamo magari un nuovo anno, per dircelo. Esatto, esatto. Bene, allora, intanto grazie per essere qui con noi, abbiamo prima sentito Mauro che ci raccontava, insomma, che loro lavoreranno tanto per generare direttamente dei lead e, dall'altro lato, per generare nuove convenzioni. Su questo fronte, soprattutto quello dei lead, li supporterete anche voi con dei lead vostri? Allora, grazie alla domanda. Allora, noi abbiamo, diciamo, facciamo delle campagne lead con un gestionale dedicato che permette una lavorazione ottimale, molto efficace e denominativo. Però, diciamo, non solo questo, ecco, quindi non solo lead, noi comunque ci daremo supporto a 360 gradi, ecco, quindi il marketing è comunque a disposizione, poi se servono layout per, so che loro, Opera Credit piace molto, insomma, le convenzioni con sindacati e quant'altro, che è una strada che anche, come dire, anche, posso dire mio padre, ha percorso, insomma, quindi, perché sì, è vero comunque... Il tuo padre ha fondato la società, no? Esatto, quindi, diciamo, sì, è vero che l'OTP comunque snellisce la pratica, però comunque i lead sono fondamentali, però allo stesso tempo contraddistingue anche un agente, diciamo, vero, quando comunque procacci i clienti andando anche nelle amministrazioni, facendo... Quindi è importante anche quello, perché sennò poi magari si svilisce un po' la figura della gente, insomma, ecco, quindi... Quindi un po' di tradizione e un po' di... Perfetto, qui abbiamo il connubio, sia appunto, diciamo, lead, che comunque adesso, giustamente, non si può prescindere dagli strumenti informatici, però la parte anche, diciamo, personale sia di conoscenze è fondamentale, anche Mauro prima l'aveva detto, insomma, che... Assolutamente, assolutamente, ha cercato, ha cercato, insomma, di... Bene, allora, ti lascio andare a goderti la serata e ti ringrazio, speriamo di rivederci presto. Certo, grazie. 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 Grazie.